Due foto di Matteo Renzi, in una diciamo c'è solo Renzi, in un'altra invece che vorrei mostrarvi c'è Renzi insieme a Letta e poi a Conte. Ti chiedo Alessandro di dirmi diciamo qual è secondo te l'immagine che può resistere nel prossimo futuro? Cioè se tu lo vedi solo o se tu lo vedi in compagnia? Lo vedo solo e fuori dalla politica ma per sua, oltre che perché Renzi ha tanti difetti ma insomma è uno che capisce cosa sta succedendo e quindi capisce che lui non può più diventare leader politico italiano e quindi io credo che lui è già su uno scivolo che lo porta fuori dalla politica, almeno dalla politica come l'ha fatta fino adesso. Diventerà un grande consulente internazionale strappagato, beato lui e questo secondo me è il suo percorso. Poi cosa succederà non lo so. Eh certo, grazie Alessandro per essere stato con noi, grazie davvero.